Il golf tappa finale in questo weekend per il golf forense circuito che con il patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri, del CONI, della Federazione Italiana Golf Lazio, da sette anni convolge i professionisti del diritto e non solo sui green della nostra regione. Con un occhio sempre rivolto alla beneficenza e in particolare all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, l'ultima tappa ha permesso di stilare con 250 confissi le classifiche. A trionfare è stata la coppia composta da Lorenzo Marronaro e Salvatore Buellis che si è giudicata il primo netto della prima categoria. Nella seconda tra i senior ha vinto il binomio Pandolfi, Sciuba, Driving Cost e Buca 18 a Squichardi.